Noi stiamo per trasferirsi in primavera nel nuovo stabilimento qui a San Giovanni Valdarno. Siamo la realtà di ABB, siamo ABB e Mobility, che costruisce e sviluppa sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Quindi siamo un'area sicuramente innovativa, dove la sostenibilità e lo sviluppo digitale sono fondamentali. E quando ci è stato presentato questo progetto da parte della Sindaca Vadi e dal Presidente Bacci, come un progetto innovativo, è stato un piacere e un onore aderire a questa iniziativa e quindi dare la possibilità ai ragazzi di un liceo di poter fare un'esperienza con questa forma di apprendistato duale all'interno dell'azienda, con il reciproco beneficio, chiaramente per lo studente, di vedere una realtà aziendale, operativa, manifatturiera, mi permetto di dire, moderna, innovativa, effettivamente digitale e dall'altra parte per noi di avere dei ragazzi giovani, delle risorse con iniziativa, con lo spirito, ripeto, giovane, per portare il loro contributo nella nostra realtà che è in forte crescita.